Alberto Delia e Giorgia Gubitoso incantano la Romania con la loro danza. La coppia irpino-salernitana a Sibiu ha partecipato al Mondiale, prendendo parte alla Kermes Transylvania Grand Prix. Al Continental Forum, l'Italia ha dominato la finale del Campionato del Mondo Danze Standard Senior. Ad aggiudicarsi il titolo, iridato, la coppia formata da Silvia Mariotti e da Manuel Guidotti, che hanno superato tutte le 38 coppie provenienti da 14 nazionalità differenti. Per la coppia, Gubitoso e Delia, si tratta del loro quarto mondiale e per soltanto due consensi ballerini della scuola di Santo Stefano del Sole, la Giudanza, non sono riusciti ad accedere alla finalissima ed hanno concluso al settimo posto finale. Al termine della loro performance, tanti gli amici che sui social hanno postato i loro video, le loro foto, segno che sul territorio ripino Giorgia e Alberto sono amati dal pubblico e soprattutto dai loro allievi. Proprio un post della ballerina di Mano Calzati ha colpito tutti sul proprio profilo Facebook. Infatti ha scritto, l'importante non è vincere ma partecipare, la celebre frase di Pierre de Coubertin. Questa frase è interpretata dalla maggior parte delle persone per giustificare ed anticipare la propria sconfitta. Invece, l'interpretazione corretta della frase di de Coubertin è L'importante è partecipare perché solo partecipando avrai la possibilità di vincere.